ciao raga come state spero bene allora nuovo video chiacchiericcio come state io bene allora se sto parlando così è perché questo microfono qua che insomma sto l'inizio e l'inizio volta che provo a registrare ogni volta non riesco più registrare perché il microfono va bene o non sente niente se mi sentite una voce così rauca è perché ho parlato tanto quando ero al centro aggregazione quindi ecco perché mi sentite parlare un po rauca allora non preoccupate sto bene passerà presto eccomi qui e niente quindi io vi auguro questo video si senta perché oltre a vedersi bene vedo che sente spero che si senta bene perché sto riprovando a riregistrare con l'audio del microfono e mi auguro che si sente tutto bene perché è veramente una cosa guardate non mi piace non regge quando non riesco a capire perché non senta bene il microfono quindi prima non sentiva bene adesso spero che senta bene e e quindi nulla dunque forse una bella giornata non ve l'ho fatta vedere però spero che si si senta bene si veda bene se capiate che la giornata è bella e nulla dunque oggi sono andata un po in giro per palau oltre andare in giro per palau in macchina perché poi sono andata al centro aggregazione con la mia educatrice bar amica da lì abbiamo progettato un cose belle da fare insieme tutti gli altri ragazzi della mia età e anche non della mia età di vabbè si erano tutti quasi nella mia età ma oltre non so chi quindi non lo so non mi sottile molto e niente dopo questo video comunque vi sarà un video di skin care non proprio skin care i miei preferiti del momento che sto adorando non ve l'ho fatto per quanto vi viene nessuna volta negli acquisti ma adesso sono giorni e mesi che lo sto che lo sto testando questo latte detergente si lo so l'età detergente come dice clio è molto anni 90 però a me piace l'odore e non mi fa fastidio la pelle quindi ve lo consiglio anche voi se voi l'avete non l'avete ancora provato se si fatemi sapere qua sotto nei commenti comunque l'argomento di oggi è infrontato su infrontato in modo di dire sulla mia giornata allora abbiamo parlato di tante cose però non lo so ancora se entrano in porto perché volevi fare delle cose che speriamo bene dopo riguardare delle cose su internet e poi vedere incrociando le dita tra piccolette incrociando le dita che vadano bene altrimenti pazienza non molti sono disposti non sono tutti disposti a farlo la stessa cosa che in mente io ma chi vuole se se ne ha voglia io glielo voglio proporre cioè di truccare di truccarli però non tutti si vanno a truccare perché ovviamente ognuno ha costo personale io potrei truccare i miei amici ma non tutti perché alcuni preferisco che si trucchino loro perché magari non le piace non le piace neanche il trucco come lo faccio io però vabbè se voi volete farvi truccare perché no ti faccio una foto ok fatto e niente ragazze mie i miei progetti poi non sono tanto progetti per vedere un po se riesco veramente a truccare gli altri già io poco mi trucco ma anzi no che mi trucco poco mi trucco un bel po' quando sono in privato però quando sono su youtube mi trucco veramente poco come oggi in questo caso ho messo la matita nera matita ombretto nero nella rima inferiore dell'occhio e niente e gli altri la mascara fatta le sopracciglia un po di bronzer e come dire basta il correttore è un rossetto che mi ha elevato perché tanto lo vedevo un po non dico volgare ma lo uso solamente a carnevale o ad halloween quindi non sta nel mio accordo quando siamo solo nei giorni non festivi che appunto che non c'è né carnevale né halloween quindi nei giorni normali preferisco non metterlo anzi volevo metterlo volevo usare di più ma preferisco usare solo con i rossetti rossi o con i rossetti nude altro niente rossetti nude non rossetti un po troppo accesi sì li porterei volentieri quelli accesi ma in realtà avrei piaciuto usare con un rossetto rosso o con un nude appunto come appena detto io oppure addirittura una rosa tenue leggero 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 non molto poco poco non so se mi sono spiegata perché non le spiegazioni non sono al massimo però spero di essere spiegata bene oggi a pranzo ho mangiato la pasta sugo a ragù buona 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 ciao e niente ragazzi questo era tutto e ho parlato per quanti 6 minuti e 25 secondi un bacio e se vi va seguitemi su tutti gli altri social e a presto ciao sperando stavolta abbia tenuto l'audio del mio microfono perché sono già è già una volta che mi è capitato che non riesco a registrare che il microfono mi prenda l'audio speriamo adesso di sì voglio vedere perché tante volte non prende davvero a dopo vediamo se sono pronta per caricare il video ciao